Conquistato sul campo è una buona possibilità per dimostrare a noi stessi, ai nostri tifosi, la crescita della squadra. Ogni partita è importante per dimostrare una crescita che ci deve essere. Il mio consiglio è quello di cercare in questi momenti di stare uniti, di stare insieme. Noi stiamo lavorando per migliorare le cose, i giocatori stanno lavorando per migliorare le cose, quindi dobbiamo essere uniti e pensare al lavoro, pensare ai sacrifici che bisogna fare per raggiungere gli obiettivi. Sono tutte caratteristiche chiare, noi dobbiamo giocare più in verticale, dobbiamo giocare con più velocità, è un percorso, a tratti ho visto dei miglioramenti, non li ho visti nell'ultima partita, bisogna lavorare, insistere e essere convinti che siamo sulla strada giusta. La squadra stia un po' crescendo fisicamente, rispetto alle prime partite nel finale siamo cresciuti un po' in relazione all'avversario, ma questo dimostra anche che la testa che fa andare le gambe non sono le gambe che fanno andare la testa, quindi bisogna crescere in fiducia, bisogna crescere in mentalità e è questo su cui dobbiamo lavorare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.